Il suo intervento ha illustrato i vantaggi della blockchain in alcuni settori. Quali sono questi settori? Sono innanzitutto tutti quei settori nei quali le incertezze sulle transazioni per esempio economiche o finanziarie fanno sì che ciascuno di noi possa avere un grado ridotto di fiducia e quindi rinunciare a quella transazione. Compravendite di beni, scambio di contratti, definizione dei diritti di proprietà, l'affitto di una casa, la definizione di diritti di proprietà per esempio su beni intangibili quali la musica, i film e così via. Il controllo della sanità, dei nostri dati sanitari sono tutti esempi rispetto ai quali blockchain può permettere una forma di trasparenza informativa diffusa, accessibile a tutti e con dei controlli precisi su quelle che sono appunto le catene di valore di una determinata transazione. Ha parlato di musica, di film, in che modo la blockchain può anche rafforzare il diritto d'autore in questo periodo in cui l'Europarlamento si sta esprimendo sulla riforma? Ma in prospettiva la blockchain può essere uno strumento anche per le forme di regolazione, può contribuire ad essere una sorta di regolatore automatico proprio perché permette sia di controllare per esempio nel caso di un dato bene di proprietà all'origine e chi l'ha utilizzato, quali sono i diritti connessi a quell'uso e dare o meno un consenso. E tutto questo può essere registrato in tempo reale, si può ricostruire la storia di un bene che è stato scambiato. Quindi per la proprietà intellettuale, quindi non soltanto per il copyright, può essere uno strumento importante di trasparenza che da un lato dà la garanzia, la certezza ai titolari di conservare la forza del diritto proprietario, ma dall'altra parte ne consente anche l'accesso a tutti coloro che ne vogliono fare un uso e una frizione. Quindi permette in qualche misura quella che in inglese si chiamano le liability rules, cioè permette in qualche misura accesso a tutti coloro che vogliono avere accesso al bene senza però togliere i diritti a chi sono i proprietari. Certamente il copyright può essere uno dei campi di applicazione meglio riusciti dal punto di vista dell'applicazione della blockchain, almeno ad oggi. Infine un suo commento su questo seminario Bordoni. Seminario molto interessante, interventi altamente qualificati, una bellissima introduzione da parte del Presidente che ha messo sul campo tutti i trade off che oggi esistono nel blockchain e va particolarmente apprezzata all'enfasi che viene data sulla necessità che oggi la blockchain diventa un sistema interoperabile, non diventa un sistema di silos chiusi e diventa soprattutto un sistema in cui l'informazione è pubblica, l'accesso è pubblico e il controllo di questo meccanismo è sempre più diffuso in qualche misura con la dovuta attenzione a questa parola democratico.